cose e non semplicemente per fare una bella rassegna di cacchio come siamo bravi e come siamo forti. Siamo bravi e siamo forti e qui è il secondo elemento, siamo bravi e siamo forti perché siamo diventati internazionali. Questo non l'ho sentito veramente, l'ho sentito solo da Paolo Di Croce. Quando a Terrasini ormai tantissimi anni fa, dopo una giornata dura e appassionante, ma è stata molto dura, molto dura, si è votato di diventare associazione internazionale, qualcuno di voi c'era, non moltissimi, vedo tantissime facce, giovani per fortuna, qualcuno c'era, è stata veramente una bellissima discussione, una bellissima discussione, ma in quel momento in cui mi hanno deciso di diventare internazionali noi abbiamo fatto il passo per diventare grandi. Questo collegamento non è così facile, perché alla fine diceva che noi siamo l'associazione italiana, abbiamo radici italiane, una storia, un percorso italiano, abbiamo un modo di intendere il cibo e le relazioni italiane. Però la crescita è cominciata da allora e il fatto di essere internazionali ci dà un'autorevolezza, una consapevolezza straordinaria. Però guardiamo allora l'internazionale. Adesso che ritornerete nelle vostre condotte, il primo passo da fare è di guardare cosa succede fuori di casa nostra, mettersi in relazione. Questa è un'opportunità che abbiamo, solo noi, solo noi in questo Paese, che ormai sta diventando un Paese vergognoso per certi versi e provinciale, questo sicuramente, con un presupposto fondamentale, che è un'associazione come la nostra, che ha il cibo al centro dei suoi interessi, deve vivere come una vergogna il fatto che ci sia un miliardo di persone che muore di fame, come una vergogna. E non dimenticarsene poi la mattina dopo, no? Oppure accettare questa, come se fosse una iattura, come quella del petrolio che pompa nel mare. Non è una iattura, è una scelta politica contro la quale è possibile combattere, partendo dal lavoro delle condotte. È possibile fare delle piccole cose, fare delle piccole cose. Allora vi invito veramente a mettervi in relazione con chi lavora nell'internazionale, che è stata, ripeto, un'opzione, votata, scelta, molti anni fa, e che ci ha consentito di essere dove siamo adesso. Mettetevi in contatto, fate piccoli passi, piccoli progetti, non pensate soltanto all'Orto di Casa. L'Orto di Casa è un bellissimo progetto, è simbolico, è forte, ma può diventare anche simbolico al contrario, cioè guardare solo sempre al cacchio di Orto che abbiamo sotto casa. Non è così. In questo mondo globale, di relazioni globali, noi non dobbiamo guardare solo all'Orto di Casa, ma anche all'Orto del vicino. Io trovo che i 200 orti, i 300 orti sono un risultato straordinario, ma altrettanto pericoloso. Se non creiamo altrettanti orti in Africa o in Sud America, il problema non lo risolveremo da soli, soli qui, non lo risolveremo solo in casa nostra. Ormai i problemi sono complessi e richiedono soluzioni complesse. E a volte bastano piccoli gesti, uno tra tutti che voglio ricordare è questo benedetto 5 per 1000. Io mi rendo conto, siamo cresciuti, ma insomma che Lega Ambiente abbia 5.000 sottoscrittori e noi siamo fermi a 2.000, beh questo dimostra che questa associazione è un po' disattenta su questo tema. Mi rendo conto che la PIL che hanno Emergency Medici Senza Frontiere o Associazioni Cattoliche è molto più forte, è certo che è molto più forte. Noi facciamo un discorso più complicato, che dire io vado là e salvo la vita, è cacchio, salvo la vita, è fortissimo. Però non stiamo dicendo che di mobilitare tutte le risorse a favore di Slow Food, stiamo dicendo che questo 5 per 1000 è un'opzione, è possibile, non costa nulla. Beh insomma salire al 10% dei soci, al 20% dei soci non mi sembra un'impresa enorme, mi sembra una cosa possibile sulla quale possiamo impegnarci. La seconda cosa che vi voglio ricordare sempre in questo tema è che a terra ed acqua, tra una settimana, lanceremo questa campagna internazionale per sostenere il presidio dell'isola di Robinson, che è stato devastato dallo tsunami, devastato, non c'è più nulla in piedi, non c'è più una barca, non c'è più una costruzione. Slow Food Italia è già impegnata per 20.000 euro, in segreteria abbiamo deciso questo, ma si potrebbe anche far di più. Se c'è un po' di mobilitazione e un po' di attenzione su questo tema credo che potremmo raccogliere molto di più. Piccole cose, ripeto, noi siamo a disposizione, noi che abbiamo fatto la scelta di lavorare in questo contesto, l'ho detto una volta, con questa metafora della carrozza ristorante, diciamo siamo in un treno che sta viaggiando a velocità pazzesca verso la catastrofe, noi non possiamo stare nella carrozza ristorante a servire il tè. Questo mi sembra che l'abbiamo capito tutti ma siamo usciti dalla carrozza a ristorante, siamo usciti, non siamo lì a servire il tè a ragionare qual è il tè più buono o il vino più giusto, mentre il treno va nel baratro. Noi ci siamo usciti, siamo conseguenti, siamo conseguenti ma siamo fino in fondo, con opzioni e con scelte molto piccole. Quindi qui chiudo, sono partito con una nota sicuramente pessimista perché ripeto, guardiamoci attorno, vulcani dall'Islanda che ci comprono il cielo, petrolio che ci sta massacrando, un tempo che non si capisce più cosa sia, grandine tempesta che si alterna al sole, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel meccanismo generale. Quindi io vi trasmetto la sensazione finale, che non è poi così negativa e uso le parole di Vincenzo Consolo e lui scrive in un libro che siamo desperados, todavia esperamos, siamo disperati ma non c'è alternativa alla speranza. Grazie.